Riccardo Ballabio 93 a 59 contro Alessandria dovevate aggredirla l'avete aggredita subito avete reso tutto davvero semplice sì sì assolutamente il nostro obiettivo era tornare forti perché dopo la pausa non si sa mai come come si può tornare e Alessandria non era di certo il cliente più facile diciamo siamo stati bravi ad essere aggressivi fin dal primo minuto non ho avuto un calo però siamo riusciti a rimanere con la testa e alla fine siamo riusciti a portarla a casa ecco abbastanza con tranquillità mentalmente l'avete vinto soprattutto esattamente a rimanere lì con la testa a non pensare alla difesa zona che facevano e a vincerla dietro in difesa ecco cosa può dare una simile vittoria a pochi giorni da un derbissimo qui con Rimini sicuramente tranquillità perché questa era la più importante perché bisogna iniziare forti sicuramente l'hanno l'abbiamo fatto e adesso con la testa abbiamo tre giorni per preparare la partita di Rimini e sicuramente lo faremo nello stesso modo in cui abbiamo preparato le partite fino adesso con aggressività e concentrazione ecco non ci senta coach serra la classifica meno la vediamo però diciamolo quattro vittorie in cinque gare tanta roba assolutamente assolutamente però come hai detto te non diciamo nulla e ce lo godiamo tra di noi questi risultati grazie riccardo in bocca al lupo grazie a te crepi grazie a te crepi